pane olio e pomodoro il cibo dei nostri nonni insegnamolo agli amici tedeschi versiamo un po di olio di oliva sul pane e ora le trovate le tomate E' un po' così spiega. Oh dai! Brava, brava Georgi! Si? Si? Sì, faccio. Ma questa volta devi andare da. Ahhhh. 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 Ma un po' di origano? Ahhhh. 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 Alles bio. Ahhhh. 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 Buon appetito. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale. Ciao. 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 S tartanti sal saterek-landi.